E' pronta la corsa per le amministrative e la macchina di Selle nella provincia di Teramo. Il partito, così come sta accadendo a livello nazionale, si pone come riferimento di sinistra alternativo al Partito Democratico. Da qui la scelta nei quattro comuni dove Selle presenta la sua proposta ai cittadini. Come silista italiana crediamo proprio che registreremo dei successi nei quattro comuni dove siamo presenti al voto, Roseto, Castellalto, Basciano e Bellante appunto dove esprimiamo anche il candidato sindaco. In due di questi comuni abbiamo operato delle scelte comunque di rottura, di autonomia nei confronti del Partito Democratico e di chiaramente alternativa al centrodestra come a Bellante.